Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fraghetto 8, Fano. Metal 4 SRL, offriamo soluzioni conto terzi per la lavorazione della lamiera. Ci trovi in località Schieppe di Orciano, a terre roveresche. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Agenzia Generale Unipolsai, Anivalli Associati. Sede di Fano, in Viale Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Viale Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata. Lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, bell'occhi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, puntata numero 37 del settimanale di Fano, tv 19esima di questa seconda stagione. Se non è una settimana decisiva quella che comunque si prepara a vivere la Smart System, le conferirà un aspetto molto preciso. Domani sera al Palace Allende la sfida di campionato contro Banca Macerata, capolista sinora incontrastata del raggruppamento centro-meridionale. Sempre al Palace Allende nel fine settimana la Final Four di Coppa Italia con la Smart System tra le quattro protagoniste. Argomenti che metteremo a fuoco con Marco Mantile, dirigente del club Virtusino. Buonasera. Buonasera e bentornato. E Gabriele Manetto, centrale della squadra Virtusina. Buonasera e benvenuto anche a lui. Buonasera. Dicevamo di una settimana, da un certo punto di vista, estremamente impegnativo per cominciare, ma dall'altra decisamente importante perché si tratterà innanzitutto di giocare per il primo trofeo stagionale, la Coppa Italia, e poi di dare appunto una inquadratura più precisa alla propria posizione in classifica in vista dei play-off. Cominciamo però da quello che vi aspetta domani, sfida con Banca Macerata che ha ampiamente legittimato questo primato in classifica, pochissime sconfitte, quasi nessuna con il massimo scarto, insomma una squadra che ha meritato quanto sta ottenendo e che tra l'altro dista una sola vittoria dalla certezza di ottenere il primo posto in via matematica. Esatto, domani sera sarà sicuramente una sfida difficile ma allo stesso tempo bella ed emozionante da giocare. Affrontiamo una squadra che meritatamente si trova al primo posto in classifica e sicuramente lotterà probabilmente contro Mantua per la finalissima, per la prima promozione in Serie A2. Affrontiamo però una squadra che nelle ultime settimane qualche stop l'ha avuto. La Smart System, da accanto suo, è una squadra che sicuramente dopo il successo con Palmi e la vittoria di Modica è una squadra in crescita, è una partita in cui fondamentalmente non abbiamo niente da perdere perché sai sfidare la capolista, sfidare il nostro ex coach Maurizio Castellano è una partita che dà tanti stimoli e siamo sicuri che sicuramente i ragazzi scenderanno in campo senza alcun tipo di remora e proveranno a giocarsi la partita dal primo all'ultimo punto sperando di portare a casa qualche punticino prezioso per questo rush finale della stagione. Smart System che viene appunto dal successo di Modica, abbiamo anche le immagini della gara e questa è una notizia nel senso che ultimamente e anche nell'arco del resto della stagione intrasferta le cose non erano andate come speravate. A Modica si è rivista una squadra che forse soltanto a San Giustino in Coppa si era potuta ammirare molto disinvolta, sempre presente nelle diverse situazioni a parte il terzo set che comunque ha provato a recuperare ma il dato forse più incoraggiante è che nel quarto avete ripreso il controllo della situazione. Sì, assolutamente, siamo partiti aggressivi sin da subito e la battuta insidiosa ci ha permesso di metterli lontano da rete e giocare una palla a volo più aggressiva e questo sicuramente è stato il tassello che ci ha fatto fare un passo in avanti in questa trasferta. Vi siete spiegati dall'interno cosa sia mai successo in questo campionato lontano dal Palace Allende? È chiaro che in questo torneo in particolare il fattore campo incide però forse non vi aspettavate che incidesse così tanto a vostre spese. Assolutamente, non pensavamo assolutamente che fosse così però per fortuna siamo riusciti a ribaltare questa situazione in questo momento e speriamo di continuare. In questo senso il fattore campo torna ad essere vostro alleato perché giocherete in casa contro Macerata e poi la Final Four di Coppa credo che nutriate grandi aspettative su queste partite. Assolutamente, abbiamo intenzione di fare bene e come appunto abbiamo detto il fattore casa ci darà una mano spero che ci dia una mano a tirar fuori il nostro miglior gioco possibile. Argomento tabù a lungo, quello delle trasferte quale tipo di analisi è stata sviluppata anche dalla società al di là del provvedimento che ha portato ormai qualche mese fa all'avvicinamento alla guida della squadra tra Toffoli e Mastrangelo? Ma fondamentalmente il pensiero della società è quello che alla squadra mancava forse di fare un processo di crescita soprattutto a livello mentale da parte dei ragazzi che pian piano potessero acquisire determinate certezze ognuno nei propri fondamentali ognuno nei indeterminati frangenti della partita pian piano stiamo vedendo che di gara in gara perché anche la sconfitta al Lago Negro che è stata una sconfitta per pochissimi punti la squadra ha dimostrato di esserci stiamo vedendo che di partita in partita sembra che uno scatto in avanti si stia vedendo e siamo molto fiduciosi per tutto il proseguo della stagione perché Coach Mastrangelo sta lavorando molto sui ragazzi sia dal punto di vista della testa ma anche dal punto di vista della tecnica e pian piano stiamo vedendo che arrivano importanti e preziosi risultati L'aspetto tecnico conta sempre ovviamente però quando si inciampa così spesso in trasferta bisogna considerare anche altri elementi la mancanza di personalità anche la mancanza di esperienza perché questa è una squadra costruita comunque per primeggiare ma con diversi giocatori che non hanno questo background così importante certificato come può essere nel caso di Macerata ad esempio Esatto, sicuramente Macerata può contare sui giocatori che hanno un curriculum pallavolistico sicuramente più importante del nostro Noi sicuramente abbiamo dei giovani interessanti dei giovani che hanno iniziato a disputare uno o due campionati di Serie A3 facendo bene come ad esempio Pietro Mello che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia a Pineto Federico Roberti che l'anno scorso è stato un protagonista lo stesso Gabriele che l'anno scorso è stato protagonista dall'inizio alla fine pian piano questi ragazzi stanno crescendo stanno crescendo grazie alle indicazioni preziose suggerimenti che saranno loro Vincenzo Mastrangelo che li sta coccolando li sta facendo crescere di partita in partita e dai speriamo che pian piano insomma la testa di questi ragazzi possa fare un ulteriore scatto e arrivarsi a giocare le partite che contano in maniera con un risultato speriamo positivo Lo scatto in avanti che si è visto a Modica mi pare sia consistito soprattutto nel fatto che avete evitato certi blackout soprattutto nel cambio palla a volte in trasferta ma arrivate la strada e non ne venivate più fuori Sì, no, assolutamente questo ci è successo più volte abbiamo provato a lavorare ad allenamento anche per migliorare queste situazioni cercando di lavorare nei momenti caldi come dice il coach quando si è lì a quel punteggio che scotta la palla deve andare a terra quindi abbiamo lavorato in allenamento per fortuna a Modica è successo poche volte perché comunque i parziali dimostrano che non abbiamo avuto quella tensione a fine set però assolutamente i momenti di blackout devono essere ancora però limati secondo me perché poi anche dal punto di vista prettamente fisico marcate una differenza piuttosto sensibile rispetto a molte delle vostre antagoniste quello assolutamente la società penso abbia in primis pensato di costruire una squadra fisica perché comunque la pallavolo c'è tecnica sicuramente però bisogna tirare forte ma anche il fisico è necessario però sì assolutamente vedremo appunto in queste sfide contro avversari che non abbiamo ancora conosciuto appunto come Mantove e Savigliano che essendo dell'altro girone non sappiamo come possano giocare andiamo a vedere i risultati che sono maturati in quest'ultimo turno dalla schermata notiamo come Macerata abbia fatto un altro passo in avanti forse determinante verso la conquista definitiva del primo posto battendo Sorrento che è una delle grandi delusioni di questa stagione alle sue spalle San Giustino viene a capo di una partita non semplice sul campo di Lecce Palmi a sua volta liquida Casarano che aveva dato segnali di risveglio importanti nelle ultime settimane tra l'altro unica squadra a despugnare Macerata anche se in un recupero infrasettimanale che forse ha creato qualche turbativa quanto invece alla classifica Macerata primissima alle sue spalle lotta aperta fra San Giustino Smart System Lago Negro ai Palmi per giocarsi il posto dal secondo al quinto che avrà chiaramente avranno una rilevanza significativa quando si tratterà di giocare i playoff anche se non così determinante al primo turno no però sicuramente cercare di arrivare più in alto possibile ci permette di avere una strada più agevole nella seconda fase a cominciare innanzitutto dal primo turno perché una diciamo che San Giustino Smart System Lago Negro e Palmi una di queste due di queste squadre si dovranno affrontare tra di loro ed evitare uno scontro del genere per noi sarebbe importante perché ti potrebbe regalare qualche chance in più senza nulla togliere alle squadre che potrebbero arrivare sesta e settima in questo caso Modica e Lecce che sono sempre ossi duri però sicuramente la difficoltà della partita è diversa il nostro obiettivo qual è? quello che mancano tre gare quello di cercare di raccogliere più punti possibili per cercare di arrivare più in alto possibile abbiamo uno scontro diretto con Macerata abbiamo la trasferta di Marcianise che è una trasferta con cui sia da prendere con le molle perché fuori casa abbiamo già parlato insomma di quello che è stata la nostra stagione e l'ultima partita in casa con San Giustino può essere un vero e proprio spareggio speriamo per il secondo posto di scontri diretti ce ne saranno anche altri oltretutto la Smart System penalizzata dal fatto che ha giocato una partita in più rispetto alle antagoniste questo è un elemento che va tenuto ovviamente in considerazione archiviamo il capitolo campionato che deve essere ancora ovviamente colmato e occupiamoci della Final Four di Coppa Italia il grande appuntamento del prossimo fine settimana tra l'altro vediamo dalla schermata quello che sarà il calendario sabato pomeriggio alle 17 la sfida fra Smart System e Mantua che ha letteralmente dominato da neopromossa il girone bianco Palmi che in Coppa Italia ha buttato fuori Macerata se la vedrà con Savigliano che apparentemente sembra delle quattro forse la più vulnerabile la finale la domenica successiva l'indomani alle 18 tra l'altro presentata ufficialmente la competizione questa mattina abbiamo anche un'immagine che ritrae il presidente della Smart System Cenerilli accanto al direttore generale della Lega Bruno Ori al presidente provinciale della FIPA Sorbini al sindaco serie agli assessori Bruno Ori e Luca Relli tenevate tanto ad ospitare questa manifestazione avete fatto valere i diritti di chi ha già dimostrato di saper organizzare questi eventi alla fine la Final Four è arrivata a Fano adesso il passo successivo è prendersela questa coppa è provare a vincerla sicuramente noi scenderemo in campo per provare a vincerla già lo scorso anno avevamo l'idea di organizzarla poi purtroppo sappiamo tutti come sono finiti i quarti di finale quindi c'era rimasta un po' qui questa organizzazione di la Final Four come è capitata l'occasione quest'anno non ci siamo assolutamente tirati indietro già il giorno dopo il passaggio del turno con San Giustino abbiamo presentato la nostra candidatura e la Lega l'ha accettata sicuramente di buon grado tant'è che lo stesso Massimo Righi questa mattina in conferenza stampa ha ricordato come a Fano abbiamo già fatto la Junior League abbiamo già fatto la finale di Supercoppa potremo provare a ospitare quest'anno qualche altra manifestazione insomma avete un know-how non da poco esatto possiamo sicuramente contare sul nostro know-how e possiamo dire che la Lega insomma non ci ha fatto troppe domande insomma sulla nostra candidatura e l'ha accettata l'ha accettata immediatamente siamo contenti perché per noi è un prezioso riconoscimento di tutto il lavoro che viene svolto da parte della società perché organizzare un evento del genere è impegnativo è impegnativo sotto tanti aspetti perché non si tratta solo dell'aspetto alberghieno ma si tratta di tutto l'aspetto organizzativo che va dal montaggio del campo tricolore perché non si giocherà sul solito Taraflex arancione e verde a tutta l'organizzazione della sala hospitality della sala stampa e di tutti i vari aspetti che costruiscono un grande evento come la Fano al Forti Coppa Italia perché il protocollo organizzativo è lo stesso della Fano al Forti Superlega tra l'altro anche tifosi al seguito che avete dovuto alloggiare esatto tifosi al seguito che abbiamo alloggiato molto volentieri sfruttando diciamo la nostra macchina organizzativa dei tornei che si è subito messa in moto siamo riusciti a offrire ai tifosi delle altre squadre un pacchetto che prevede l'ospitalità alberghiera e il biglietto per le partite in modo tale da permettere alle persone che appunto vengono in questi due giorni a Fano di poter sì vedere la Final Four di pallavolo ma conoscere anche la nostra città tutto perfetto dal punto di vista organizzativo il tasto dolente resta quello di un impianto inadeguato ad eventi di questa portata e complessivamente non all'altezza di quello che è il respiro che sta dando la Virtus a questa sua esperienza nel campionato di A3 e si spera in futuro non sia solo di A3 esatto speriamo in futuro di poter fare qualcosina di più oltre alle A3 sicuramente l'impianto non è il massimo per poter ospitare un grande evento però al momento siamo convinti che il Comune ci ha detto che insomma si sta dando parecchio da fare per cercare di avere un nuovo Palace siamo fiduciosi che queste promesse possano essere mantenute noi dal canto nostro dobbiamo continuare a fare sempre il nostro meglio a fare il tutto nella miglior maniera possibile e poi pian piano i risultati arriveranno e poi speriamo che ecco tra uno o due anni nel caso in cui ci sia il nuovo palazzetto potremo giocare lì casomai un campionato di A2 una partita alla volta Gabriele quindi focus su quella di domani sera contro Macerata che già richiede un dispendio di energie nervose e fisiche certamente non trascurabile però un pensierino a Mantua l'avrete sicuramente fatto Mantua che a scorrere i nomi non sembra questa corazzata che in realtà ha vinto quasi tutte le partite del Girone Bianco sì sicuramente quest'anno secondo me c'è una grande differenza tra i due gironi e come abbiamo visto appunto il nostro girone siamo tutti lì a parte appunto la corazzata Macerata le altre sotto sono tutte lì e al nord invece comunque è un po' più si vive un po' più vita facile secondo me e contrariamente a quello che era accaduto l'anno scorso dove si pensava al di là di quello che poi è stato lo sviluppo dei playoff che il girone centro-nord fosse più competitivo esattamente esattamente l'anno scorso si pensava così e alla fine si è rivelata essere sbagliato perché le squadre che sono salite sono state Ortona e Catania quindi il girone sud e quest'anno vedremo adesso il pensierino a Mantova sinceramente non l'abbiamo ancora fatto perché appunto lavoriamo una partita alla volta sicuramente l'obiettivo è quello di portare a casa la Coppa ma studiare la partita non l'abbiamo ancora messo in pratica chiaramente giocare una buona partita contro Macerata e magari Centrale e Successo vi avvierebbe a questa Final Four nella maniera più convincente assolutamente una vittoria contro Macerata e soprattutto anche contro il nostro vecchio coach Castellano sarebbe una bella soddisfazione e poi quello sicuramente poi ritornare di nuovo in casa sabato e domenica e avere questi due bei giorni di pallavolo sarà sicuramente divertente dell'otto di queste finaliste cosa pensi invece tu Marco? ma il lotto di queste finaliste sicuramente le squadre del Gironè Nord Savigliano è una squadra un po' più in difficoltà perché ultimamente ha perso lo schiacciatore olandese che è tornato in Olanda e ultimamente ha dovuto anche rinunciare a Galaverna quindi dal punto di vista degli schiacciatori fa un po' più fatica tant'è che se non sbaglio viene da tre o quattro sconfitte consecutive Mantov è una squadra che sono curioso sinceramente da affrontare perché è una squadra tutta da scoprire tra l'altro con un opposto e uno schiacciatore Jordanov che due anni fa hanno vinto il campionato con Prata anche se non erano protagonisti assoluti è una squadra che sta facendo bene è una squadra che ha perso veramente poco e quindi sono curioso di vedere questa sfida dove penso che soprattutto l'arma del servizio sia per noi un'arma importante perché se riusciamo a battere bene possiamo sicuramente metterle in difficoltà Palmi invece l'abbiamo visto due settimane fa al Palace of the Land è sicuramente un osso duro ha il dubbio Pavel Stabrava che purtroppo è uscito anzitempo nell'ultima partita però ecco anche loro sono una gatta da pelare tra l'altro Andrea parlavamo stamattina con Vincenzo Mastrangelo il Fano ha già vinto una Coppa Italia di A2 anni fa a Taranto e Vincenzo era il secondo allenatore della squadra di Taranto una squadra guidata da Angelo Lorenzetti con Simeonov Torre se non ricordo male insomma giocatori che poi hanno avuto uno sviluppo di carriera molto importante grazie a Marco Mantile dirigente della Smart System grazie anche a Gabriele maretto centrale della squadra Virtussina noi torniamo fra qualche istante tocca adesso al calcio di nuovo in campo l'alma dopo 24 giorni una pausa lunghissima decisamente inusuale dettata dalla sosta che il campionato ha osservato in concomitanza con il torneo di Viareggio sosta che si è allungata nel caso dell'alma che aveva all'interno della rappresentativa di Serie D il proprio giocatore Mancini alma che ha chiesto e ottenuto prima il rindio della gara con il notaresco che si recupererà domani al Mancini e poi quella di Piedimonte Matese che verrà invece recuperata la settimana prossima due settimane le prossime estremamente dense per una squadra quella Granata che deve ribaltare una situazione di classifica decisamente complicata l'avversario di domani è il notaresco vediamo qualche immagine della gara d'andata rappresenta la rivelazione indiscussa di questo campionato di Serie D formazione non particolarmente accreditata alla vigilia che ha tenuto un ruolino di marcia estremamente regolare che viene tra l'altro da un paio di risultati che l'hanno proiettata a ridosso della zona a playoff all'andata finì uno a uno con l'alma capace proprio con Mancini di riequilibrare la situazione era una squadra che viaggiava a ritmi decisamente incoraggianti che poi è andata incontro come sappiamo a difficoltà evidenti e che si prepara a questo match con il notaresco dovendo fare fronte alla squalifica di Urbinati alle indisponibilità si teme per un lungo periodo di Tomassini ma sentiamo Giovanni Cornachini alla vigilia del match di domani restare fermi così tanto tempo sicuramente non ha aiutato però i ragazzi sono legati bene quindi io sono convinto che la prestazione si possa fare contro una squadra che è sicuramente di salute che ha qualità che è un ottimo allenatore che è organizzata quindi e che non ha niente da perdere voglio dire si trova in una situazione di classifica molto molto tranquilla per cui sarà sicuramente difficile però è una partita che anche questa ha alla nostra portata e quindi abbiamo assolutamente non sbagliare l'approccio e la partita la fame ce l'abbiamo ce la dobbiamo avere assolutamente visto la classifica che non ti aiuta assolutamente quindi dobbiamo essere bravi a entrare con la mentalità giusta con l'aggressività giusta con la voglia di ottenere risultato a tutti i costi quella con il notaresco sarà la prima sfida che vedrà presente Salvatore Guida in tribuna in qualità di nuovo presidente domenica prossima di nuovo Almancini contro i Chieti poi due trasferte consecutive quella piedimonte-Matese la successiva sul campo dell'Aquila nel frattempo domenica le altre hanno giocato stavolta i risultati hanno dato una mano al Fano come vediamo soltanto il Termoli delle squadre di coda ha vinto battendo tra l'altro largamente il Fossombrone sconfitte invece l'atletico Ascoli che sembra un po' fuori dalla mischia peraltro il Tivoli lo stesso Vasto Girardi sul campo del notaresco e il Real Monte Rotondo classifica ora con l'Alma che mantiene se non altro una lunghezza di margine sul Vasto Girardi e due sulla Matese la quota salvezza resta distante otto lunghezze finisse oggi il campionato l'Alma sarebbe retrocessa direttamente in eccellenza appunto data la forbice rispetto alla Sora ma c'è il tempo per recuperare a patto naturalmente di invertire la marcia e torniamo adesso a parlare di atletica leggera lo facciamo sulla scorta dei risultati eccellenti conquistati in quest'ultimo periodo da Alice Pagliarini buonasera e bentornata buonasera grazie e dal fratellino Francesco Pagliarini per lui la prima volta buonasera e benvenuto buonasera grazie cominciamo da Alice se sei d'accordo Francesco ci sono stati campionati italiani juniors ad Ancona poi campionati italiani assoluti Alice protagonista su tutti e due i fronti in particolare la doppietta il doppio titolo tricolore conquistato nei 60 e nei 200 ad Ancona a livello juniors una doppice vittoria che ti aspettavi sinceramente sì me l'aspettavo perché comunque sono arrivata a questi campioni italiani come favorita in entrambe le distanze però ovviamente non bisogna mai dare nulla per scontato e quindi me l'aspettavo ma allo stesso tempo ero comunque concentrata nel andare a prendermi il titolo anche se appunto non dandolo per scontato rivediamo questa tua gara di finale dei 60 piani atleta ai blocchi di partenza è sempre un momento molto delicato quello del posizionamento ai blocchi di partenza sì perché comunque bisogna restare concentrati sulla partenza allo sparo come giudichi la tua prova al di là del risultato che è stato all'altezza delle aspettative ma alla fine è una buona prova se fossi partita un po' meglio un po' più rapida forse sarei riuscita anche a scendere un po' di più con il tempo però nel complesso è venuta una bella gara a proposito di tempo era più o meno quello nelle tue corde allora io posso fare molto meno però come personale ho 7,36 lì avendo corsi in 7,37 più o meno siamo lì direi ampissimo il divario rispetto alla concorrenza ai festeggiamenti a fine gara con le congratulazioni da parte delle tue antagoniste grande sportività credo a termine di ogni gara almeno questo in qualche modo filtra dalle immagini ovviamente Alice posa con la bandiera tricolore come è dovuto a chi conquista un titolo italiano dopodiché possiamo passare alla prova dei 200 piani risultato identico anche se è una prova decisamente diversa soprattutto indoor perché si tratta di coprire l'intero anello esatto sì il 200 indoor è molto diverso da quello all'aperto anche per quanto riguarda le curve che in questo caso sono rialzate sono un po' più strette quindi come gara è un po' più difficile io poi prima dei campioni italiani non l'avevo neanche preparata quindi l'ho un po' improvvisata ed è andata benissimo cosa cambia tra 60 e 200? i 200 sono troppo più lunghi una faticaccia per me sono più faticosi anche perché io non è una gara su cui mi concentro su cui preparo quindi non sono neanche troppo allenata per poter correre ancora fortissimo questa distanza in prospettiva pensi che comunque sia una prova che possa attirare la tua attenzione sì nella quale tu possa emergere sì sì vediamo ancora una volta lo sviluppo della gara con l'affermazione anche in questo caso una gara è piuttosto netta da parte di Alice che gareggia quest'anno e l'avrete notato dalla divisa con il gruppo Fiamme Gialle un salto di qualità importante quello che è avvenuto appunto in questi mesi sì sì è stato un grande traguardo possiamo dire che ho raggiunto e ringrazio le Fiamme Gialle per avermi presa con loro nella loro famiglia sono molto felice io da piccola sono cresciuta nel gruppo giovanile delle Fiamme Gialle quindi da piccolina sono sempre sognato di poter correre a livello professionale nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle i campionati Juniors di Ancona hanno fatto da trampolino di lancio verso i campionati italiani assoluti anche in questo caso ci facciamo aiutare dalle immagini la finale con le grandi possiamo dire e vediamo in questo caso la semifinale con la quale ti guadagni la qualificazione alla finalissima il tuo traguardo era arrivare comunque tra le prime otto di questa prova oppure confidavi anche magari in qualcosa di più allettante allora io sinceramente puntavo a migliorare un po' la posizione dell'anno scorso l'anno scorso ero arrivata a sesta quindi mi ero posta come obiettivo di migliorare la sesta posizione e soprattutto di provare a migliorare il tempo sono comunque felice di essere andata un'altra volta in finale tra le più grandi poi questa finale rispetto a quella dell'anno scorso era anche più competitiva perché l'anno scorso mancavano delle atlete che invece qui sono presenti quindi per quello sono molto contenta però non sono rimasta contenta per il tempo e anche per come ho corso me l'ero immaginata un po' diversa questa gara mi diceva il papà Andrea Pagliarini che ovviamente è il mentore della situazione che forse si è arrivata un po' scarica a quella finale forse sì magari l'accumularsi anche delle fatiche che ti era sottoposta nell'ultimo periodo avendo fatto i campionati italiani di categoria inizio febbraio e questi dopo due settimane forse avevo perso anche un po' quella carica delle gare non lo so però comunque alla fine non possiamo dire che sia andata proprio che sia una gara da buttare via certamente no a sfruttarle è stata l'adosso e lei è la velocista di punta credo del movimento in questo momento sì sì passiamo ora a Francesco anche lui ad Ancona si è fatto ampiamente onore magari non nella prova dei 60 metri dove c'è stato qualche inconveniente ma in quella dei 200 metri come sono andate le cose? su 200 metri ovviamente era la mia gara che io preparavo perché i miei butti erano i 60 metri però comunque è stata una gara bellissima perché ho fatto il record regionale il mio personal best che questo record durava da 28 anni quindi avendolo fatto ero gasatissimo ero contento e poi per questa gara ero concentrato molto concentrato ed eri convinto insomma di poter far bene guardiamo le immagini di questa tua performance che è coincisa con il primato che appunto raccontavi parti dalla corsia esterna e anche in questo caso mi pare sia una gara dall'esito in qualche modo scontato a vederne lo sviluppo perché hai preso subito un margine piuttosto rassicurante nei confronti degli antagonisti hai corso con buona fluidità non sono un tecnico ma l'impressione è quella e sei riuscito insomma ad esprimerti al meglio ad esprimere quelle qualità che ti vengono accreditate già da qualche tempo e appunto il riscontro cronometrico è stato all'altezza delle aspettative Francesco raccontiamo un po' la tua storia perché quella di Alice l'abbiamo già conosciuta nella precedente sua apparizione qui in tv tu nasci con una passione che non era proprio quella dell'attentica è così? Allora no la mia passione inizialmente io da piccolo volevo giocare a calcio perché strano che non lo pensa nessuno di giocare a calcio da piccolo perché un pallone da piccolo guardavo molte partite con papà e quindi da piccolo poi giocare a calcio io però con il passare del tempo poi mi sono iscritto a questo calcio e inizialmente si andavo benino però ho fatto una serie di panchine che non mi sono piaciute ho visto che comunque correvo veloce e mi sono detto dai prima di fare atletica dove non ti dovevi preoccupare del pallone esatto solo dello sparo e ho iniziato a fare atletica con dei buoni risultati però comunque non eccellenti e poi col passare del tempo che mi sto più appassionando sono iniziato a venire i tempi quindi vendo questi tempi iniziò su 60 con il record regionale che anche lì da molto durava e dopo quella gara in me ho scoperto qualcosa che prima non c'era e mi ha mi ha dato la giusta carica per iniziare questo percorso in atletica chiaramente sei ancora giovanissimo ho tanta la strada da fare davanti dove devi migliorare di più allora in questo momento dobbiamo puntare soprattutto io alla testa perché diciamo che molte volte sono distratto e questo in gare che durano così poco è fondamentale la concentrazione è la cosa più importante infatti con un mio errore di distrazione non ho preso la finale per pochissimo e il mio obiettivo era andare lì e vincere fratelli Pagliarini anche lì c'era passata un'esperienza diversa quella della danza se non ricordo male prima di virare decisamente sull'atletica che rapporto avete in questo senso la domanda potrebbe sembrare rettorica perché abbiamo un'immagine che rende credo ampiamente l'idea mi pare insomma che il rapporto funzioni fra i due è così? sì io non posso stare senza di lui e lui credo non possa stare senza di me abbiamo passato tutta la nostra infanzia insieme sempre insieme ci diamo la forza un l'uno all'altro e abbiamo sempre dormito insieme in cameretta infatti da poco ci siamo divisi e un po' si sente la mancanza dell'altro in camera però comunque vedendo insieme stai crescendo eh insomma Francesco condividi questa lettura del vostro rapporto di Alice ovvio che la condivido perché senza lei non posso stare al campo senza lei io non mi diverto lei è la mia forza ogni volta che prendiamo le gare ci abbracciamo e diciamo apro la vicenda ci carichiamo siamo unica persona ecco qual è la qualità che Alice possiede che vorresti avere che magari in questo momento non hai eh la testa perché lei è veramente super concentrata è proprio nel pezzo centrata quello che in questo momento io faccio felice a fare e tu invece Alice cosa vorresti rubare di Francesco? un po' quell'emozione in più prima della gara io tendo molto a stare molto tranquilla quasi addormentata mentre lui è molto più sul pezzo più preso molto più energia più energetico sì forse un po' di più prenderei da lui questo diamo un'occhiata al futuro quali sono i prossimi impegni Alice e il programma a questo punto della stagione all'aperto allora come gara all'aperto prossimi impegni i campionati italiani e il più importante i mondiali in Perù a Lima a fine agosto poi io a metà marzo parteciperò al mio primo raduno a livello assoluto e a fine marzo entrambi andremo al raduno giovanile invece raduni che ti daranno l'occasione di crescere ulteriormente anche stando a contatto con atlete più formate più esperte sì sì quello assoluto il tecnico ha proprio detto di volermi convocare per farmi fare esperienze iniziare ad inserirmi nel mondo di quelle più grandi farmi conoscere loro e anche per quanto riguarda le staffette per iniziare a provare con loro per acquisire confidenza esatto tu invece Francesco da cosa sei atteso allora i prossimi obiettivi sono italiani a Molfetta e dove punterò ovviamente a fare bene correrò i 100-200 e appunto l'obiettivo principale invece sono gli europei chi si terranno una settimana dopo due ricordo questo è l'anno delle Olimpiadi si disputano a Parigi chiaramente non è ancora la circostanza buona per prendervi parte ma il traguardo 2028 soprattutto nel tuo caso Alice è qualcosa di realistico mettiamola così sì il 2028 sicuramente più del 2024 ovviamente io lavorerò per provare a parteciparvi adesso è troppo presto per pensarci quindi poi quando sarà il momento ci penserò però sicuramente le Olimpiadi sono un sogno che tutti sognano e desiderano quindi sicuramente tra i miei pensieri qualsiasi anno sia se non sarà il 2028 sarà quello dopo non importa credo che anche nel tuo caso l'aspirazione massima sia di partecipare ai giochi ovvio e per finire quello che è il problema che state vivendo da qualche tempo cioè l'indisponibilità della pista Zengarini che vi costringe un po' a fare i nomadi qua e là per i diversi impianti è un problema che vi condiziona? sì è una situazione un po' scomoda perché comunque siamo stati buttati fuori dal campo e non ci sono lavori all'interno della pista quindi noi ci ritroviamo in uno spazio fuori molto piccolo per tutti quanti e molto spesso siamo costretti ad andare a Pesaro ad andare anche ad Ancona e magari capita che la sera c'è traffico quindi si torna a casa tardi noi poi dobbiamo anche studiare quindi sicuramente è una situazione molto scomoda e speriamo che non crei problemi poi nella nostra preparazione atletica grazie ad Alice Pagliarini grazie a Francesco Pagliarini noi torniamo fra qualche istante grazie e adesso ribalta per la scherma Fanum Fortuna reduce da un grande risultato che commenteremo con il contributo di Evelina Langella allenatrice della Fanum Fortuna Schermo buonasera bentornata e come potete vedere con quasi l'intera squadra femminile del club Fanese le cui componenti ci verranno presentate proprio da Evelina Langella chi abbiamo ospiti? oggi abbiamo ospiti partendo dalla mia sinistra Sara Tonelli Chiara Ragusa e Virginia Di Tommaso assente Asia Volpi per impegni scolastici le magnifiche quattro che hanno firmato questo traguardo che è stato centrato nei giorni scorsi di che cosa si è trattato? si è trattato del campionato di spada serie C2 zonale zona centro-sud Italia che l'anno scorso abbiamo sfiorato la promozione per una stoccata abbiamo perso 45-44 e quest'anno avete fatto tesoro di quell'esperienza e quest'anno le ragazze sono partite con l'obiettivo della promozione e una volta arrivate in semifinale hanno deciso che si dova salire sul gradino più alto vogliamo ripercorrere il cammino che avete svolto in questa competizione ovviamente una serie di incontri con club provenienti da tutto il centro Italia anche dal sud sì da tutto il centro Italia hanno iniziato con la fase gironi dove hanno incontrato tre squadre se non ricordo male perché ho due squadre di Napoli e una di Taranto portando un risultato netto quindi tre vittorie su tre che questo gli ha permesso di entrare subito ai sedicesimi saltando la prima eliminazione diretta e da lì è stato un crescendo con un risultato fisso di 45-43 sempre per noi fino ad aggiungere Frascati in finale dove le quattro ragazze hanno dato il meglio di loro e con la grinta l'obiettivo di arrivare prima devo aggiungere una cosa se mi è permesso erano supportate dall'altro tecnico perché io sono rimasta a casa da Ilaria Langella che li ha spinte fino alla fine per arrivare ad ottenere il risultato meritato dicevi del precedente dell'anno scorso chiaramente in un anno si matura si cresce si affinino le qualità e naturalmente ci si deve attendere poi un risultato diverso in una competizione del genere sì l'anno scorso eravamo a Pescara siamo ritornati a casa con la mare in bocca due componenti dell'anno scorso erano anche quest'anno Sara e Asia e in sostituzione a Giulia Francolini ne abbiamo aggiunte altre due valenti molto Chiara e Virginia alla loro prima esperienza in questo tipo di gara e di competizione a squadre Sara sei stata raccontata come la veterana del gruppo ti attendevi questo risultato? Per certi versi sì perché comunque durante tutta la stagione i miglioramenti li ho notati quindi sono partita che avevo molte speranze in questa squadra e soprattutto nella gara avevo voglia di fare bene poi ce la siamo goduta durante tutto tutta la giornata senza metterci troppa pressione quindi è andata molto bene Passiamo il microfono alle tue compagne di squadra che erano al debutto come ti sei trovata? Mi sono trovata molto bene non era come stare in una squadra ma era come stare in una famiglia avevo legato molto non pensavo veramente Era la tua prima competizione importante mi pari di capire hai sofferto l'emozione oppure sei stata tranquilla durante la gara? No ho sofferto molto l'emozione infatti non me l'aspettavo per niente Virgilia come ti sei trovata? Qual è stata la tua sensazione durante la competizione? Allora per me sicuramente il gradino più alto del podio non era un risultato a cui aspiravo particolarmente perché bastava secondo me la promozione cioè quello era il mio obiettivo principale inoltre non ero diciamo cioè questo è il primo anno in cui sono in questa ho passato il livello di categoria ecco e quindi come squadra anche non siamo mai state tutte insieme a parte in questa gara ovviamente negli allenamenti perciò non avevo altre aspettative però ovviamente mi sono ricreduta e appena siamo salita in pedano visto che comunque funzionavamo anche perché è stata un'esperienza molto bella devo dire quella dei giorni a Napoli in cui siamo state siamo andate d'accordo abbiamo legato diciamo di più di quello che ci aspettavamo e perciò me la sono vissuta molto bene competizione a squadra Evelina la formula credo sia quella delle Olimpiadi quando si gareggia appunto a squadre ognuno deve portare il proprio mattoncino altrimenti non si va tanto lontano Sì è come quella delle Olimpiadi a staffetta le ragazze comunque fanno tre assalti incontrando le tre avversarie e ognuna di loro deve mettere il loro mattoncino sia in vantaggio che in svantaggio quello che dico sempre quando siamo in vantaggio ognuno deve pensare in qualche modo sia la squadra ma quando salgono in pedana loro stesse indipendentemente dal tesoretto o meno che la compagna precedente gli ha lasciato e nel momento in cui magari si va sotto dico sempre mettete le vostre cinque stoccate poi abbiamo il tempo per recuperare posso dire come mi raccontavano anche l'altro tecnico loro non sono quasi mai state sotto e quindi era tutto un crescendo e una gestione del vantaggio che abbiamo sempre che hanno sempre ottenuto chiaramente poi subentra il fattore entusiasmo nel momento in cui sei davanti ti sembra tutto un po' più facile sì sì ti sembra tutto un po' più facile eppure magari anche il fatto di sono state brave soprattutto Sara perché lei che è stata l'ultima staffettista della finale a cercare di mantenere il vantaggio e non cercare a tutti i costi il punto di chiusura cioè chiuderla veloce perché di solito si rischia purtroppo di perdere invece ha tenuto testa lei come hanno tenuto testa tutte le altre ragazze un problema può essere Sara in questo tipo di competizione mantenere la concentrazione mentre è in corso l'assalto della tua compagna e tu sei chiamata poi a dare il tuo apporto subito dopo sì sì no soprattutto devi cercare di non farti influenzare troppo dal fatto che se lei perde punti non ti devi buttare giù come se lei ha tanto vantaggio tu non devi diciamo avere dei pregiudizi nel senso montarti la testa tra virgolette quindi devi andare lì fare il tuo assalto come se stesse 0-0 quindi ci vuole anche una certa concentrazione soprattutto nel non buttarti giù se ti rimontano soprattutto avevamo già fatto conoscenza con Sara chiedo anche a Chiara e Virginia come vi siete avvicinate alla scherma e cosa avete trovato di particolarmente accattivante e avvincente in questo sport allora io mi sono avvicinata alla scherma grazie a mio padre perché il figlio di un suo amico praticava questo sport e io ero alla ricerca diciamo di uno sport perciò ho intrapreso questa strada che mi sembrava un po' sconosciuta io non sapevo nemmeno cosa fosse la scherma prima di iniziare e mi è piaciuto particolarmente il fatto che fosse uno sport innanzitutto individuale e anche che non ci può essere un pareggio ma per forza vince uno o l'altro ecco nel tuo caso cosa ti ha spinto ad abbracciare la scherma c'è un mio amico che praticava la scherma e grazie a lui ho intrapreso anche io questo viaggio e mi è piaciuto subito dall'inizio perché è uno sport istintivo e dove le regole ci sono però come si ha più l'istinto che tutt'altro ecco vediamo anche qualche immagine di questo trionfo ottenuto dalla Fanum Fortuna e Scherma in particolare il momento della premiazione in cui salite sul gradino più alto del podio credo sarà un momento sempre particolarmente emozionante questo nel quale appunto siete gratificate con la medaglia oltre che con l'omaggio floreale sì sì no poi quel momento è stato speciale come tutto il resto della gara perché come siamo stati in un clima molto familiare durante tutti gli altri assalti lo siamo stati anche lì infatti abbiamo anche acchierato di continuo poi quando siamo saliti sul podio anche lì facevamo battute soprattutto nessuna ci credeva infatti penso che un pensiero mio come anche loro è il fatto che abbiano realizzato solo dopo il giorno dopo quando ci siamo svegliate con la medaglia vicino e quindi sì è stato emozionante soprattutto realizzarlo e vediamo appunto il momento della premiazione così come successivamente avremo la possibilità di ammirarvi in diverse pose appunto con le medaglie al collo Evelina torno a te per tratteggiare quelli che saranno i prossimi appuntamenti che attendono queste ragazze e in assoluto magari provare ad immaginare una prospettiva di qui ai prossimi anni se è possibile allora ne abbiamo subito con Sara Tonelli Asia questa domenica a Napoli che è il secondo prova nazionale di spada per la qualificarsi al campionato italiano che si terrà a maggio e subito dopo avremo la seconda prova nazionale under 17 under 20 con Sara Virginia e Asia e Edoardo Maggi che anche loro un po' trascurando i maschi e dopo parliamo anche perché c'erano anche a Napoli maschi la squadra maschile e anche loro anche lì a Catania cercheranno di prendere il pass per i campionati italiani per quanto riguarda il futuro sperando che tutto vada per il verso e che loro continuino a praticare scherma anche per impegni universitari perché qualcuno il prossimo anno si iscriverà all'università di riuscire ad andare avanti di portare sempre più persone ad avvicinarsi alla scherma ragazzi e ragazze e poi non perché magari anche fa autore promotrice della scherma anche le Olimpiadi che ci saranno adesso a Parigi magari riuscire ad avvicinare qualche altro ragazzino o ragazzina che voglia venire è sempre scomodo parlare di se stessi forse Sara ti aveva già fatto questa domanda qual è la tua principale qualità in pedana soprattutto lo spirito di adattamento nel senso che io penso di essere una persona poco prevedibile e riesco ad adattare le mie azioni rispetto a quello che fa l'avversario questo mi permette di trovarmi relativamente bene in diverse situazioni che è una caratteristica che magari alcuni non hanno e fanno più difficoltà a superare determinati stili di altre persone Chiara invece nel tuo caso qual è la dotte per la quale in qualche modo spicchi? Io la difesa di solito non attacco mai infatti tendo a difendere sì esatto non riesco più ad attaccare in difesa invece me la cavo ecco E nel tuo caso Virginia invece? Penso la forza di volontà nel senso che quando mi impongo un obiettivo faccio di tutto per raggiungerlo magari anche se ho la mano che mi sta tremando e non riesco più a parare comunque sia trovo un modo per riuscire comunque ad andare avanti a non sentire quel dolore ma a concentrarmi sul magari riparare dopo un danno che mi posso infliggere in pedana e a non pensarci in quel momento ma ad andare solamente avanti ecco Invece apriamo il cassetto per tirare fuori un sogno qual è il tuo di qui al futuro nella scherma? Beh sicuramente partecipare alle Olimpiadi perché è un sogno da quando sono piccola che guardo in tv ammiro con tanta diciamo E degli esempi non mancano esatto e quindi niente questo è il mio più grande sogno partecipare alle Olimpiadi Condividi questa aspirazione condivido pienamente E immagino che Sara sia allineata Sì io cerco più di soffermarmi su step by step e quindi in primis sì ci sono le gare di questo fino a settimana e del prossimo e entro fine stagione speriamo di essere ovviamente andate avanti soprattutto nel ranking esserci fatte vedere e quindi si raggiungere piano piano l'obiettivo più grande che ovviamente sono le Olimpiadi come hanno detto le altre Abbiamo promesso una parentesi per i maschietti come sono andate in questa gara e qual è lo status della schema maschile all'interno della Fano Fortale Allora i maschi la squadra era composta da tre elementi Stefano Lionelli Mattia Scarpetti e Renzi Giovanni sono stati bravi sono anche loro nella fase a Gironi si sono comportati davvero molto bene hanno totalizzato due vittorie su una una l'hanno persa per poche stoccate e poi perché le squadre in totale erano 32 la direzione di torneo ha deciso di mandare tutti alle dirette quindi hanno usato il tabellone di 32 e loro hanno incontrato la squadra di Cosenza e il livello è buono e abbiamo un po' di problemi magari scolastici o per impegni scolastici e lavorativi non riescono alcuni ragazzi a essere presenti totalmente agli allenamenti però con la forza del volontario riescono ad andare avanti abbiamo ottenuto buoni risultati magari la prossima siamo convinta sono convinta che il prossimo anno arriverà anche la promozione da parte dei ragazzi perché il lavoro si vede i miglioramenti ci sono stati e poi vediamo al momento abbiamo Edoardo Maggi in competizione a Catania che si è qualificato vediamo se riusciamo ad ottenere anche con lui una buona prestazione che stanno crescendo tutti chi più chi meno l'unico handicap tra virgolette ma non è un handicap i maschi sono molto di più delle ragazze anche se il comparto spada a livello nazionale sono tanti molti si parla di gare nazionali individuali con 500 maschi e super giù all'incirca il numero delle femmine è uguale toccate fuga per finire sull'impianto siete sempre confinati nella palestra della scuola Gandiglio sì siamo sempre lì alla Gandiglio stiamo attendendo di sapere se la collocazione dei lavori al pianto in teoria alla Zingarini dovremmo essere ci vorrà un po' di tempo anche lì in teoria siamo lì e vedremo dove riusciamo a collocarci al momento siamo ancora lì in attesa che finiscono i lavori anche nella palestra Gandiglio perché anche noi lì abbiamo i lavori che sono iniziati più di due anni fa e anche lì purtroppo ci sono stati cioè purtroppo per il bene della città ritrovamenti dell'antica Roma per noi siamo un po' stretti grazie a Develina Langella grazie a Sara Tonelli grazie a Chiara Ragusa grazie a Vircina Di Tommaso grazie a tutti voi per averci seguito anche questa sera vi aspettiamo come sempre la settimana prossima grazie a tutti